Albano di Lucania Arca Joe, museo interattivo del giocattolo povero e del gioco di strada, nasce nel 2004 e come l'Arca di Noè ha preservato tutte le specie di esseri viventi dal diluvio universale, il museo ha il compito di raccogliere e tramandare la tradizione del giocattolo povero e del gioco di strada alle generazioni future. A 900 metri d'altitudine Albano di Lucania è il cuore pulsante delle piccole dolomiti lucane. Dalla chiesa madre dedicata a Santa Maria Assunta edificata su una cripta preesistente del 1200 al santuario della Madonna delle Grazie, la testimonianza religiosa della comunità di Albano. Immerso nel verde del Bosco Cupolicchio, il Parco Avventura è uno degli attrattori di Albano di Lucania. Immerso nel verde del Bosco Cupolicchio, il Parco Avventura è uno degli attrattori di Lucania. Immerso nel verde del Bosco Cupolicchio, il Parco Avventura è uno degli attrattori di Lucicismati, il Parco Avventura è uno degli attratti di Lucileri.